Non l'ho visto? Rega il profondo! Rega, facci lo vuoi! Si, che mi fa solo... Voi di recuperare! Non ci sono delle comple, capite? Vai, vai! Sto faccio addosso che... Non mi davvero bello, per in qualcosis... Ah, vai! In zona del 100, hai già! 18 minuti Quanto rendiamo? Quanto faccia l'appare? D'accordo? D'accordo? C'è la Unaina? Sì sì, questa l'appare è una ampia di acquisto. Per le volte, per le volte, si vede. A Bello, proprio. Sì. 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 22 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 25 25 26 25 25 25 25 25 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 26 bianchi, 2 bianchi. Stretta. Si. Si si vede. Ehi, tutto in lastra. 8,6,4,8,4,7,8. E il palleno? 44. Giusto? Non credo. Non credo. Allora, 44. Bravo! 36 rossi. Un po' più forte, un po' più piano. Dicono quel pezzetto. Bravo! 36 bianchi. Non è, grazie. No. Vedete? Versi. Glante, dico. Fanta! delayatus. Ui, poня Нs aquilo. Oh, accupcio. Ciao! 29. saçma ha una nuova. E ai, pozie di nuovo, 地. Grazie. Grazie. Due bianche. Mette forse per la parola. Grazie. La tosta. E i bianchi dalle mani. Grazie. A-ah. Rekata. Due bianche. Due bianche. Treinta due bianche. Due bianche. Due bianche dalle mani. Grazie. 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 12- great ruptures. 4 ruptures. 22 26 27 28 31 32 31 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 39 39 40 40 41 41 Grazie. 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 16. 16. 16. 16. 16. Vieni. Dopo non gli vogliamo regalare la cipolloccia. 2 punti non c'è niente solo. Grazie. 40 piani. 2 rosse. 3 puli. 6 puli. 2 bru Ce phosphate è vero. Leyvi trascere i 4 puli. 3 puli. 5 puli. 10 puli. 7 puli. Non trovo il piano. 10, 12. Passo, non passo. Apozzo, apozzo. E' da due ore. E' da due ore. E' da due ore. E' da due ore. Ok. E' da due ore. Bene. Bene. Ciao. Grazie.